Toc toc Che favade Fai vedere Bisogna sempre interrompere le visioni dei filmini Quando sei più bello cazzo Ehi fermi, stoppate C'è la signorina Vuole vedere anche lei, forse non lo so Tenta è un film porno Guarda, quello non è come sempre Ok Quello è la cineteca di mio nipote Guarda, te lo faccio vedere Toc Ma che cazzo dici? Ma è di fuori lui Ok, stiamo visualizzando Il contatore Dell'energia del condominio Che è totalmente in tilt La gente sta lavorando Poiché, ascolta ma Stoppa un attimo e spiegami che cazzo Fammi finire, dai Lui sta dicendo stronzate Te ne stai accorgendo Secondo me, cioè Se mi fai continuare il video Forse qualcosa di buono lo dice Lui? Sì, lui Ok, continua Allora niente Vi stavo dicendo che nel condominio Tutto è in tilt Sono arrivati appena dei tecnici Un quarto d'ora fa E stanno tentando l'impossibile Ma tu Hai idea di cosa sta succedendo Nel setore 4 Aula 5 Magno presso fuso L3 4 2 K 7 0 Sinceramente No Mi sto capendo Cazzo C'è nulla Scoltami Bocchina Io sto qua a fare il mio lavoro Capito? Quindi è inutile che tu vieni a fare la zoccola E mi rompi i coglioni E quest'altro ricchione Oltretutto Mi fa vedere questi video di merda Io non ho tempo da perdere con voi Cioè io Veramente Io sono una persona impegnata Sono il nonno di Nino D'Angelo Capito?